come togliere la percentuale della batteria su smartphone su iphone esi scusatemi su android non è se non è difficile molto semplice sono due procedure da seguire la prima o vado abbassare la tendina del mio smartphone android chiaramente sopra in atto c'è la iconcina della batteria ci clicco sopra ecco qua e successivamente clicco in alto a destra di due puntini e dove scritto mostrare la percentuale della batteria vado a togliere il segno di spunta pigiandoci sopra ecco come avete visto è sparito il segno di spu insegnano il segno in primis il segno di spunta ma è sparito anche il livello o meglio la percentuale della batteria per farlo riappare ci ricco di nuovo sopra e vado a riempire il quadratino questo è il primo metodo questo è più immediato chiaramente l'altro è quello di andare su impostazioni eccolo qua la scritta è questa impostazioni scorrere giù fino ad arrivare alla decidura batteria eccola qua ci vado appiggiare sopra sempre qui solito procedimento in alto a destra di tre puntini e vado a togliere il segno di punta su mostrare la percentuale della batteria ecco è sparito è sparito la percentuale della batteria vedete bene è semplice è una grande sciocchezza anche questo è un tutorial banale creato solo per informare e aiutare gli altri più che altri principianti chiaramente gli esperti già sanno tutto grazie tale andro narratore italiano iscrivetevi commentate una buona serata a voi